Sanremo 2021, siamo in compagnia di Francesco Renga. Ciao Francesco! Ciao ragazzi, come state? Noi abbastanza bene! Tu piuttosto, come stai? Come mi vedi? Sto bene, sto bene, sto bene. Informissima, ma soprattutto volevamo chiederti subito questa cosa. Insomma, tu sei un veterano del palco dell'Ariston, l'hai calcato tantissime volte. Ogni anno si dice che uno non si abitua mai al palco dell'Ariston. Sanremo è sempre nuovo e diventa sempre come la prima volta. Però sicuramente quest'anno, vista la situazione, sarà un Sanremo decisamente inedito. Tu come ti sei approcciato a questo nuovissimo Sanremo per tutti? Sanremo unico, si spera irripetibile, quindi un po' si sta facendo la storia sicuramente del festival, perché si spera che questa sia una prima volta e unica. e mi sono approcciato come tutte le altre volte per quanto riguarda la preparazione, la canzone, l'emotività e tutto quello che riguarda anche la tecnica. La canzone è una canzone molto difficile in realtà da cantare e quindi mi sono preparato anche da quel punto di vista, ho studiato. Però è un Sanremo stranissimo, molto strano. Siamo tutti sotto protocollo, tamponati, attenzionati da tutti. Sarà molto anomalo. C'è anche da dire che l'Ariston è sempre stata un'anomalia, non si è mai considerato, almeno io non l'ho mai considerato semplicemente, un palcoscenico, quindi il fatto che non ci sia il pubblico in sala, a me non è che disturbi più di tanto. Ovviamente è sempre bello avere qualcuno, uno sguardo con il quale confrontarsi mentre stai cantando, mentre stai facendo una performance, ma hanno trovato un escamottaggio secondo me molto intelligente. C'è tutta l'orchestra davanti che praticamente ti guarda ed è molto bello questo comunque avere un rapporto visivo con qualche quarto ed uno di vivo sotto il palcoscenico. Però è certamente un Sanremo stranissimo. Però sai, sono circondato da ragazzi che non hanno mai visto tutti gli altri e quindi probabilmente loro saranno molto a loro azione. Bene, bene. Bene. La canzone che porti sul palco questa sera di Sanremo si chiama Quando trovo te ed è la sintesi. dei tuoi 35 anni di carriera. Ma sei soddisfatto di tutto il tuo percorso artistico? Alla fine ti sei trovato? E se sì, in quale momento? Guarda, mi sono trovato... Sì, la canzone è un... diciamo, una summa di tutto quello che sono stato e anche probabilmente di quello che sarò. C'è una scrittura moderna, però molto rispettosa della mia vocalità di un tempo e quindi ci sono un po' tutti i colori e tutti i territori che ho frequentato in questi 30 e passa anni di lavoro, di canzoni, di parole. È una canzone sorprendente per certi versi. Come ti ho detto, è molto impegnativa dal punto di vista vocale. Per entrare nelle tecnicismi, diciamo che occupa due ottave e mezza quasi di estensione nella sua totalità. Quindi è una canzone, forse la più difficile che abbia mai portato al festival. Ma è anche la più sorprendente proprio perché mi rappresenta in questo momento a pieno. Volevo portarla a questo festival così strano di cui abbiamo parlato fino ad ora anche perché la gestazione, la nascita di questa canzone parte da lontano, parte proprio da questo periodo assurdo che siamo stati costretti a vivere, che questa pandemia ci ha costretti a vivere. Parte da un trasloco che io sono riuscito a fare all'inizio, appena prima che cominciasse il primissimo lockdown. Stavo traslocando, mi sono trovato quindi chiuso in casa con degli scatoloni da svuotare e da queste scatole sono uscite molte cose che credevo dimenticate, che credevo di aver perduto. Ricordi, quindi fotografie, diari, scritti, tutte cose che mi hanno aiutato alla gestazione di questa canzone. Lì nasce, perché racconta di quello che è un concetto che ho sempre esplorato nei miei scritti, nei miei testi, che è un po' il concetto di oblio salvifico, così come lo chiamo io, quel fatto di dimenticare per riuscire ad andare avanti. Però mentre aprivo questi scatoloni mi sono anche reso conto che ci sono dei ricordi che in realtà non abbiamo dimenticato. Abbiamo volutamente fatto finta di dimenticare per proteggerli da tutto quello che in realtà la vita ci porta a dover sopportare spesso. E quei ricordi che sono quelli migliori, quelli belli, sono quei ricordi che nei momenti difficili, bui, come questo che abbiamo passato, che stiamo ancora in noi tuttora passando, sono quei ricordi appunto che di colpo, all'improvviso, riemergono, riaffiorano dalla nostra anima e con una potenza inaudita ti danno la sensazione vera di quello che ti sta succedendo intorno e di quello che in realtà hai. Quindi quella felicità, quelle piccole cose, quasi sempre sono piccolissimi gesti e piccolissime cose di ogni giorno che abbiamo tenuto nascosti dentro di noi per non mischiarli, non corromperli con la vita che spesso siamo costretti a fare. Invece nella serata delle cover tu porterai un meraviglioso brano di Ornella Vanoni, Una ragione di più, con Casa di Lego. Volevamo chiederti come mai hai scelto appunto Casa di Lego, cosa ti ha colpito di lei, fresca tra l'altro vincitrice di X-Factor e secondo te i talent ancora oggi, dopo che insomma ce ne sono veramente tantissimi, ci sono da tanti anni, riescono ancora a trovare dei veri e grandi talenti? Non so rispondere a questa domanda. Ti posso certamente rispondere che Elisa, che Casa di Lego è un talento assoluto. Io ho seguito il percorso che ha fatto X-Factor ed è un talento puro, un talento però anche portato avanti con cura, probabilmente con studio, con attenzione, all'età di mia figlia. Io ho pensato subito a lei perché mi sono anche un po' messo nei suoi panni. Io il primo Sanremo l'ho fatto che avevo 21-22 anni e ho pensato se qualcuno a 17-18 anni mi avesse dato questa possibilità come sarebbe cambiato poi il mio percorso. Ed è una porta che ho voluto aprirle proprio perché penso che sia meritevole prima di tutto perché ha un talento, secondo me, in questo momento assoluto. Brilla e brillerà sempre di più. È un astro nascente e la canzone è molto bella. Ho voluto farla anche per questo motivo perché era una canzone che era rimasta fuori da un progetto di qualche anno fa che era Orchestra Voce. Era una canzone che volevo fare ma poi non era riuscita ad entrare perché c'erano troppe cose. Ed è un omaggio a una grandissima artista, Ornella Vanoni, ma soprattutto a uno degli autori della canzone che è Emilio Reitano, che spesso non lo si porta tanto come autore. Invece era un autore raffinato e quindi è un omaggio a lui e anche agli altri autori di questa bellissima canzone tra i quali c'è anche Franco Califano. Benissimo. Molto bene. In questo momento così delicato per i lavoratori dello spettacolo, se dovessi scegliere una frase della tua canzone e dedicarla proprio a loro, quale sceglieresti? Ma in questo momento mi verrebbe da dire come sempre mi dimentico di te perché mi sembra che si siano dimenticati tutti di questi lavoratori dello spettacolo. E un po' anche l'idea della mia partecipazione al festival parte anche da questa constatazione, da questa consapevolezza. C'è moltissima gente che è un anno che non lavora, è un anno che non ha aiuti, è un anno che non ha un orizzonte. Questo è uno dei motivi per i quali qualche mese fa ho aperto comunque delle date per dare ai miei musicisti, ai miei fonici, ai miei tecnici, ai miei backliners, tutte le persone che ti aiutano a fare uno spettacolo. E l'altra cosa che vorrei rammentare è che oggi noi stasera quando saremo sull'Ariston, sul palco dell'Ariston, non saremo da soli. È vero, ci sono io, c'è la Michelin, c'è Fedez, c'è Annalisa, c'è Malika, ci sono un sacco di artisti su questo palcoscenico, ma c'è anche Pippo che è il direttore di palco che voi non conoscete, che però è un anno magari che non lavora e quest'anno, oggi, domani, stasera lavora. L'altro ieri l'ho rincontrato per la prima volta alle prove. Ci sono i lucisti, ci sono i fonici, ci sono i backliners che stanno ricominciando a lavorare. Quindi lo spirito mio è un po' questo, anche qui, restituire un po' di speranza e di fiducia a un mondo che non è solo quello dello spettacolo. Attenzione, io adesso parlo, perché sto parlando del Festival di Sanremo, ma c'è veramente un sacco di famiglie, di donne, di uomini che sono in grande difficoltà. Quindi non credo, non è, purtroppo, si speravano fosse il Festival della ripartenza di tutto un comparto che è fermo da un anno, ma certamente è un accendere i motori e quindi sperando di ripartire al più presto. Assolutamente, ce lo auguriamo tutti quanti, chiaramente. Francesco, prima di salutarci, ti sottoponiamo anche al gioco che stiamo facendo fare a tutti i nostri ospiti, appunto tutti gli artisti in gara, ovvero il 20x40. Ti faremo 20 domande in 40 secondi, tipo flusso di coscienza, rispondi con la prima cosa che ti viene in mente, tranquillamente. Tu stai pronto a staccare? Se dico delle cose, è bisogno così. Pronto? 3, 2, 1, via! Come stai? Bellissimo! Vi siete bloccati! Ci senti? Ci senti? Adesso sì! Avete fatto 3, 2, 1 e so! E momento così, insomma, suspense! Ma ok, ok! 3, 2, 1, via! Come stai? Molto bene, grazie! Mario Montagna? Mario... Mario! Eurovision? Eurovision? Sanremo! Sanremo! Cos'è mangiato a colazione? Caffè americano, basta! Rosso di sera? Bel tempo si spera! Amadeus o Fiorello? Insieme! 10 per 19? Non ne ho la più pallida idea, 10 per 19... Ah no, scusa, 190! Sai che cosa penso? No! Ambra o Rubino? Eh, ci siamo arrivati, siamo arrivati! 9, 9, dai! 9 su 20! Ambra o Rubino? Ambra o Rubino? Non era male, però! No, ma non l'avevo capito perché c'è un ritardo! Allora, bisogna farlo, ma bisogna farlo vis-à-vis! E quindi ce ne parliamo tra un anno! Esatto! Speriamo anche prima, dai! Speriamo anche prima, sì! Grazie mille, Francesco! Buonremo! Grazie a voi! Ciao, grazie! Viva! Grazie mille! Grazie mille!